signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospio è su questo canale nello scorso video delle fondamenta del dungeon abbiamo visto quelli che sono gli elementi fondamentali del dungeon che detta così immagino non sia un grande colpo di scena in preparazione per un video che poi sarà questo video sugli elementi fondamentali del mega dungeon anche se sarebbe più corretto dire questa serie di video perché più vado avanti a scrivere più salta fuori roba che avrei dovuto inserire in realtà sta serie avrei dovuto fare anni fa ma oramai è andata così cominciamo quindi questa settimana andando a vedere cosa voi come master dovete inserire in un mega dungeon durante la fase di progettazione quelli che sono gli elementi teorici li abbiamo già discussi la paio di settimane fa in un video ve lo lascio linkato qua sopra se dovete andarlo a recuperare quindi questa settimana non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere nella pratica quali sono gli elementi che devono essere inseriti nel vostro mega dungeon nel video sugli elementi del dungeon abbiamo detto che un dungeon deve avere una sua storia è un motivo per cui il dungeon è stato originalmente costruito quando si parla di mega dungeon tutto diventa molto più grosso molto più complesso e molto più difficile prima di tutto ricordatevi che i mega dungeon viste le loro dimensioni non sono delle grosse strutture sono delle vere e proprie estensioni geografiche all'interno della mappa del vostro mondo e molto probabilmente al loro interno sono divisi in varie sottosessioni affiancate o sovrapposte l'uno all'altra come tale come tutto il resto della geografia del vostro mondo devono avere un nome per identificarle sia il mega dungeon di per sé sia anche le sotto aree al suo interno ovviamente il primo motivo per questo è banalmente una questione di verosimiglianza il mega dungeon non è sicuramente qualcosa che passa inosservato quindi sia gli abitanti del mega dungeon vero e proprio che gli abitanti delle zone circostanti avranno un nome per identificarlo anche perché molto probabilmente nel folklore locale esistono miti e leggende su come il mega dungeon sia originariamente stato creato magari queste potrebbero anche avere un briciolo di verità al loro interno l'altro motivo invece è molto più pratico i giocatori dovranno andare all'interno del mega dungeon i loro personaggi dovranno esplorarne le varie aree quindi è molto più conveniente avere un nome a cui riferirsi a questi posti semplicemente per garantire una comunicazione più efficiente dire qualcosa come a dobbiamo tornare nelle caverne oscure è molto più veloce di dire dobbiamo tornare in quel posto sai dove abbiamo incontrato che c'erano i goblin con la spada ma è lì dobbiamo andare ovviamente un mega dungeon in quanto mega dungeon dovrebbe avere un nome appropriatamente o altisonante ma quale sia un nome corretto per il mega dungeon e per le sue aree dipende principalmente da quale sia il mondo di gioco in cui è inserito e quale sia il tono che il tavolo vuole dare alla quest o alla campagna che c'è ambientata all'interno sempre per via della sua enorme estensione sul territorio come abbiamo detto il mega dungeon non è un unico ambiente ma sarà diviso in varie sotto zone potete chiamarli livelli potete chiamarli biomi in realtà la terminologia è molto varia diciamo che ci accordiamo per chiamarli zone geografiche e la risolviamo così come abbiamo già detto uno scorso video un mega dungeon molto spesso non è stato inizialmente progettato per essere tale ma si tratta di varie strutture che poi nel corso dei secoli si sono interconnesse tra i loro di conseguenza le zone all'interno di un mega dungeon potrebbero essere anche molto diverse l'una dall'altra magari una parte del complesso era effettivamente una grossa struttura sotterranea con pareti di pietra lavorata e torce alle pareti ma che poi è stata connessa a una serie di caverne naturali con le stalactite e stalagmiti fino magari ad arrivare nelle parti più profonde dove va a connettersi con l'underdark a paesaggi veramente alieni come foreste di funghi che crescono nell'oscurità più totale quando preparate il mega dungeon pensate a queste zone come se fossero le varie zone in cui è diviso uno zone crawl ne abbiamo già parlato vi lascio il link qua sopra se dovete andarlo a recuperare comunque ognuna di queste zone avrà una sua tabela e gli incontri casuali dei suoi mostri specifici e probabilmente anche una sua sottotrama in cui i giocatori verranno coinvolti una volta che ci entrano la principale differenza con un normale zone crawl però sarà che le zone non sono accessibili l'una all'altra da qualsiasi punto sul loro bordo ma per via della natura labirintica del mega dungeon esisteranno solo una serie limitata di passaggi obbligati che connettono una zona con l'altra prevedete sempre passaggi molteplici sia tra una zona e l'altra che tra il mega dungeon stesso all'esterno sia al di sotto che al di sopra ma non deve diventare qualcosa di aperto come il mondo di superficie non è che partendo da un punto e marciando sempre dritto si può arrivare a un altro e non deve neanche diventare un unico lunghissimo corridoio con solo specifici passaggi obbligati per passare da una zona all'altra i giocatori devono sempre avere la possibilità di scegliere qual è il percorso che vogliono fare ma stiamo comunque parlando di un labirinto sotterraneo quindi il numero di percorsi possibili non è infinito per questo motivo all'interno del mega dungeon potrebbero venirsi a creare proprio dei passaggi obbligati che le varie fazioni del mega dungeon avrebbero forte interesse a controllare e i giocatori potrebbero anche dover prendere delle decisioni strategiche da questo punto di vista cioè allearsi con la fazione che controlla il passaggio tra una zona e l'altra che a loro serve o magari allearsi con lo nemice cercare di prendere possesso del passaggio obbligato per poi utilizzarlo anche loro un altro aspetto che viene molto spesso sottovalutato e causa effettivi premi gestione per una campagna all'interno di un mega dungeon e che il mega dungeon dovrebbe contenere una città un villaggio un accampamento comunque un posto relativamente sicuro in cui gli avventurieri possano riposare vendere il tesoro acquistare servizi e nuovo equipaggiamento normalmente un dungeon non contiene niente del genere ma un normale dungeon normalmente è pensato per essere esplorato dagli avventurieri in un unico giro entrano uccidono ogni cosa che si muova all'interno prendono il tesoro e se ne vanno al massimo se gli avventurieri arrivati a metà di un normale dungeon si accorgono di avere troppi pochi punti ferita comunque di essere in difficoltà il fatto di dover uscire per recuperare il grosso delle risorse almeno di non trovare uno stanzino segreto qualcosa del genere diventa una scelta tattica all'interno del gioco restiamo qua e ci nascondiamo da qualche parte o ce ne andiamo con il rischio che poi il dungeon si ripopoli tempo che andiamo al villaggio e ritorniamo il mega dungeon però per la sua natura non può essere gestito in questo modo mega dungeon sono pensati per essere esplorati in decine se non centinaia di missioni di esplorazione nelle sue catacombe che i giocatori ogni volta che facciano un paio di stanze debbano poi rifarsi tutto il mega dungeon al contrario per tornare al villaggio e poi rifarsi buona parte del mega dungeon per tornare dove erano vorrebbe dire che ogni due o tre stanze esplorate c'è poi un paio di settimane di intermezzo tra il fatto che i giocatori se ne vanno e poi ritornano non avrebbe senso non sarebbe divertente dare ai giocatori una struttura all'interno del mega dungeon stesso in cui possano ritirarsi quando la loro quest è finita rende il tutto molto più efficiente sia per il gioco stesso sia all'interno della narrativa per giustificare perché semplicemente il dungeon non si ripopoli ogni volta che i giocatori ne escono semplicemente perché i giocatori in realtà passano pochi giorni tra una missione e l'altra a riposare proprio perché il loro accampamento è già lì se poi l'esplorazione del mega dungeon è una parte consistente se non la missione principale dell'intera campagna potreste anche pensare che costruire una base installare delle strutture all'interno del mega dungeon stesso potrebbe essere un arco narrativo a se stante i giocatori potrebbero avere la missione di creare il loro villaggio magari all'inizio della campagna anche di questo abbiamo già parlato ovviamente la presenza di un villaggio offre tutta una serie di vantaggi ulteriori che non sono direttamente legati al mega dungeon ma sono legati alla struttura del villaggio stesso e man mano che scrivo sto video mi sono reso conto del discorso è talmente ampio che in realtà lo scorporato quindi prossima settimana settimana dopo adesso non so bene comunque presto vedrete un video che parla del villaggio di per sé non strettamente legato al mega dungeon può sembrare scontato ma tutto quello che abbiamo detto finora in realtà ha lo scopo di portare i giocatori a fare quello che è previsto che facciano all'interno del mega dungeon cioè affrontare superare i vari pericoli che contiene a differenza di un normale dungeon un mega dungeon non ha una stanza del tesoro che i giocatori devono raggiungere e normalmente non ha neanche un boss finale che una volta sconfitto indica il completamento del mega dungeon anche se zone diverse o parti all'interno delle stesse zone potrebbero contenere veri e propri micro dungeon al loro interno c'è però comunque la possibilità che i giocatori recuperino tesori e sconfiggano mostri particolarmente temibili all'interno del mega dungeon la maggior parte degli incontri che i giocatori farà comunque saranno di natura molto meno epica e per via della natura del mega dungeon voi come master dovreste puntare principalmente a usare questi incontri per erodere progressivamente le risorse del party per dare appunto il senso di quanto sia pericoloso e difficile anche solo avanzare all'interno del mega dungeon e se è possibile per inserire in maniera mimetica vari concetti importanti per il mega dungeon stesso preparatevi quindi liste di incontri casuali che siano tematici per le varie aree magari la zona centrale attorno a cui il mega dungeon è sviluppato è un'antica tomba e quindi lì sarà molto facile incontrare non morti scheletri o cosa del genere però queste tombe poi sfociano su delle caverne naturali e lì invece saranno preponderanti mostri del sottosuolo e magari altre creature sotterranee per via delle sue dimensioni molto spesso non serve che voi disegnate una vera e propria mappa curata del mega dungeon con ogni singola stanza e ogni singolo corridoio sarebbe un lavoro titanico che probabilmente i vostri giocatori non vedrebbero comunque mai nella sua interezza è molto importante però che voi vi prepariate alcune mappe delle varie zone che siano tematiche con la zona in cui poter ambientare i combattimenti o comunque gli altri incontri che i giocatori faranno e che magari vi prepariate una mappa politica del mega dungeon in cui viene indicate quale sono le varie zone in cui è diviso e quali sono i passaggi obbligati tra queste zone ricordatevi anche che il mega dungeon non è una struttura che si estende solo orizzontalmente ma anche verticale quindi alcune di queste zone potrebbero trovarsi sopra o sotto le altre ovviamente non si tratterà sempre solo di incontri di combattimento abbiamo già detto più volte il mega dungeon è abitato da creature che non sono necessariamente ostili in ogni caso potrebbero incontrare mostri che sono molto più interessati a commerciare che a combattere o che semplicemente non hanno alcun interesse negli avventurieri tanto quanto gli avventurieri non hanno alcun interesse nei loro confronti incontri come questi al di là di evitare che diventi un videogioco in cui devono pulire da una stanza all'altra serve anche a poter far parlare il mega dungeon ai giocatori tramite le voci dei suoi abitanti e anche a far parlare in questo modo i rappresentanti delle varie fazioni che si contendono il mega dungeon con i giocatori in modo che abbiano le informazioni su che cosa sta succedendo intorno a loro proprio dagli abitanti stessi del dungeon in modo da farli sentire più coinvolti e far sembrare l'ambiente di gioco più reale potenzialmente ci sarebbe ancora moltissimo da dire sul mega dungeon e su cosa può essere trovato al suo interno ma diciamo che questi quattro sono i punti fondamentali di cui non potete fare a meno per il resto adesso ditemi voi qui sotto nei commenti quali sono le strutture quali sono gli elementi che voi avete usato nei vostri mega dungeon o che voi ritenete essere i più importanti considerate anche che per quanto possa esistere un idea base di che cos'è un mega dungeon molto dipende dalla singolo mega dungeon e quindi quello che in un mega dungeon è indispensabile potrebbe essere il tutto superfluo in un altro e viceversa quindi discutete qui sotto su cosa per voi è migliore come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo per crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link al gruppo i telegram al server di discord dove metto io le notifiche dei video manualmente dove trovate il resto della community del master cae io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video